E' uno dei boschi più belli della provincia di Roma, Manziana. Siamo a due passi dal lago di Bracciano, dentro il bosco dell'Università di Agricoltura. Si trovano anche tanti funghi e noi qualcuno l'abbiamo messo qui in saccoccia. Ecco qui la conduttrice di Soul TV 2000. Che stupido. Laggiù c'è una mazza da tamburo. I am stretched upon your grave and will lie there forever. If your hands were in mine, I'd be sure they'd not sever. My apple tree, my brightness, tis time we were together. For I smell of the earth and am worn by the weather. When my family thinks that I am safe in my bed. From night until morning, I am stretched at your head. Falling out into the air.